Siamo venuti qua a fare la partita nostra che volevamo fare, ci siamo riusciti abbastanza bene, io sono soddisfatto i ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano, quello è lo spirito giusto per noi, cercando di far giocare il meno possibile la squadra avversaria che è una squadra di tutto rispetto, penso sia la più forte del campionato e quindi niente, è un risultato che ci dà ulteriore morale per iniziare bene la stagione del campionato, per domenica prossima. Cosa ci dici di Dominici, mister? Si sta dimostrando un bel giocatore? Beh, noi li abbiamo preso anche per quello perché comunque è un ragazzo che già conoscevo, che ero qua in Peria quando venivo qua, è un ragazzo che si mette soprattutto a disposizione prima di tutto della squadra come fanno tutti, ha delle buonissime qualità e quindi non sei contenti di averlo, sei contenti che soprattutto giochi in un gruppo di ragazzi fantastici, dove mettono i suoi compagni, mettono in condizione gli attaccanti e di esprimersi al massimo, quindi danno un aiuto anche a tutta la squadra, a lui e gli altri attaccanti e questo deve essere lo spirito nostro. Grazie, mister. Grazie.